Ciao, sono Carlo Chirio, bassista cuneese. Sono qui da Fuori Tempo Strumenti Musicali per farti sentire questo Squire Jets Bass. Questo Squire è un classic vibe, riedizione degli anni 70, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. A me piace molto per la tastiera in acero, con i dots neri, così come lo facevano appunto negli anni 70. È un basso dal peso medio, quindi non è leggerissimo ma neanche molto pesante ed è ben bilanciato. La configurazione del Jets Bass prevede due volumi su ogni singolo pick-up, quindi questo qua sopra è il pick-up al manico, mentre quello sotto al ponte. E poi c'è il controllo dei toni, che rende il suono un po' più chiuso o un po' più aperto. Ad esempio... Questo qua è chiuso. Invece se lo apro... ...ho un suono molto più squillante che io prediligo. Come scelta dei pick-up, in particolare l'uso, soprattutto quello al ponte. Perché dà un suono molto medioso e con un buon attacco, una buona definizione. Mentre invece il pick-up al manico è più rotondo, quindi conferisce rotondità al suono. Se volete provare questo bel basso, venite da Fuoritempo a Cuneo. Invece se volete imparare a suonare basso elettrico, potete contattarmi sul mio sito www.carlochirio.com anche per lezioni online oppure in presenza in provincia di Cuneo. Ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!